Lascia in pace elli verso elli perché tu hai scavalcato l'impossibile, hai scavalcato l'impossibile, lascia in pace le persone che si divertono, che portano i loro contenuti in maniera tranquilla e tu che cosa fai? Fai queste minchiate, fai queste minchiate, non sapendo che tu sei anche a rischio di denuncia comportando.